Nome? Maria Grazia D'Antonio Età? 32 anni Dove vivi? Vivo a Gorbanzola in provincia di Milano Dove sei nata? A Foggia Cosa fai oggi nella vita? Sono una SEO account manager e ho iniziato da poco a lavorare in digital Raccontaci il tuo percorso professionale in un minuto Ok, sono studiata lingua all'Università degli Studi di Milano e seguendo la mia passione per l'inglese mi sono trasferita in Gran Bretagna e ci sono stata per sei anni e in Gran Bretagna ho lavorato nel mondo del digital marketing specializzandomi appunto nella SEO e dopo questi sei fantastici anni ho deciso di tornare a casa a Milano La tua pillola di saggezza per il futuro? La mia pillola di saggezza per il futuro è che per tutto ciò che riguarda la SEO prevenire è meglio che curare quindi assicuratevi che i vostri siti siano Google friendly